Ha perso due mesi di scuola dell'infanzia, ma con le in aiuto sono stati l'amministrazione comunale attraverso il sindaco e la scuola pubblica. Protagonista è una bimba di due anni e otto mesi, affetta da una forma grave di sordità bilaterale. La piccola nel settembre scorso, prima si è vista accettata e poi rifiutata in una scuola privata paritaria di Trani. Da venerdì scorso la bimba frequenta una scuola pubblica, supportata da una maestra di sostegno. A segnalare il caso è stato l'avvocato Sasso del Foro di Trani, al quale si sono rivolti i genitori della bimba per eventuali azioni legali. Secondo il racconto del legale d'inizio d'anno, la bimba era stata iscritta alla scuola privata paritaria Congregazione Suore Angeliche di San Paolo. Nel marzo scorso, però, da controlli sanitari è emerse che la bimba era afferta una gravissima sordità bilaterale e a giugno venne sottoposta ad un primo intervento chirurgico di impianto cocleare. I genitori della piccola avrebbero avuto comunque assicurazioni dalle suore che la bimba poteva essere accolta senza problemi. Il 18 settembre scorso la piccola venne accompagnata a scuola e i genitori dettero la loro disponibilità a risolvere qualsiasi tipo di problema. Ma il giorno dopo, riferisce il legale della coppia, la maestra ha informato la mamma della piccola che non se la sentiva di prendersi cura della bimba perché la patologia di cui era affetta avrebbe comportato responsabilità di cui non intendeva farsi carico. La coppia ha contattato anche la sua responsabile e la struttura assicurando che avrebbero potuto offrire, se necessario, anche un'integrazione economica per garantire gli insegnanti di sostegno. Ma dalla scuola privata è arrivata la comunicazione ufficiale dell'escursione della bimba. I genitori della piccola si sono rivolti a quel punto alla struttura pubblica che inizialmente non ha potuto accogliere la bimba perché organici e utenze erano stati già definiti da tempo. E' quindi intervenuta l'amministrazione comunale con in testa il sindaco Gigi Di Serbato che di concreto con l'ufficio scolastico regionale è riuscita a trovare la soluzione inserendo la piccola che da venerdì scorso frequenta dunque una scuola pubblica per l'infanzia ed ha garantita l'assistenza che la legge riconosce per i bimbi affetti da disabilità.